Hans Wahinger. Hans Wahinger nacque nel 1852 nei pressi di Tübingen in Germania, crebbe in un clima decisamente religioso e lo spirito religioso di Wahinger principiò a mutare quando, al Gimnasium di Stoccarda, entrò in contatto con il panteismo e con l'evoluzionismo di Darwin. Nel 1879 Wahinger principiò a frequentare lo Stift di Tübingen, ove fu decisamente influenzato da Christoph Sigvart e successivamente da Otto Liebmann. Principiò proprio qui a leggere attentamente Kant e rimase decisamente colpito dalla dottrina trascendentale kantiana dello spazio del tempo. Wahinger si interessò molto anche a Schopenhauer e a von Hartmann, due autori a partire dai quali poté formulare una filosofia di impronta pessimistica. Si laureò con una tesi intitolata Le moderne teorie della coscienza. Completati i propri studi, Wahinger principiò il servizio militare ed ebbe modo di trasferirsi a Lipsia. Optò per questa città in quanto era sede di una prestigiosa università. Qui risentì potentemente dell'influsso di Lange e della sua storia del materialismo. In seguito Wahinger si trasferì a Berlino per poter studiare sotto la guida di Zeller. Mentre era a Berlino pubblicò il suo primo lavoro, Hartmann, Düring e Lange, scritto nel 1876. Per ragioni familiari dovette tornare nel sud della Germania, dove sostenne gli esami di abilitazione all'insegnamento accademico sotto Ernst Laas. La dissertazione di dottorato di Wahinger, intitolata Ricerche logiche, parte prima, la lezione della finzione scientifica, andò successivamente a costituire il fondamento teorico del suo lavoro più importante, la filosofia del come se del 1911. Wahinger aveva in animo di comporre una storia della filosofia inglese, e però un editore di Stoccarda, che probabilmente conosceva il lavoro di Wahinger dal titolo Ein Blattversetzung in Kant's Prolegomena del 1879, lo persuase a dedicarsi a un lavoro di commento alla critica della ragion pura di Kant, in occasione del centenario della pubblicazione del testo kantiano. Nel 1881 Wahinger fu dunque nelle condizioni di pubblicare il primo volume di un grande commentario alla critica kantiana della ragion pura. Wahinger era convinto di riuscire a terminare rapidamente anche il secondo volume dell'opera, e però il lavoro preparatorio richiese decisamente più tempo di quello preventivato originariamente. Per questa ragione, oltre che per via del problema della sua salute sempre molto cagionevole, la pubblicazione del secondo volume sulla critica della ragion pura di Kant seguitò a essere rinviato. Il lavoro fu poi concluso nel 1892. Il commentario di Wahinger fu il primo grande contributo al movimento del ritorno a Kant. A partire dal 1895 la corrente intellettuale del ritorno a Kant fece decisivi passi in avanti. Si è soliti assumere come data di inizio di questo ritorno a Kant il 1860. Il 1860 è l'anno in cui Kuno Fischer pubblicò Vite e fondamenti del pensiero di Kant e i due volumi dedicati al filosofo di Königsberg nella sua Storia della filosofia moderna. Cinque anni più tardi, nel 1865, Otto Liebmann diede al movimento la sua parola d'ordine, concludendo ogni capitolo del suo Kant e gli epigoni con le parole bisogna quindi ritornare a Kant. La parola movimento, in tedesco Bewegung, può forse suscitare l'impressione che si desse una scuola di pensiero i cui membri condividevano le stesse visioni circa il contributo di Kant alla filosofia. E però si tratterebbe di un'impressione fuorviante e anzi errata. Infatti si davano almeno dodici scuole diverse, peraltro in contrasto le une con le altre, nel leggere e nell'interpretare Kant. Si pensi anche solo all'antagonismo tra la scuola di Marburgo, fondata da Herman Cohen, e quella del sud-ovest o di Heidelberg, fondata da Kuno Fischer. Persino all'interno delle singole scuole si davano interpretazioni decisamente contrastanti fra loro. Nell'introduzione generale al suo commentario alla critica kantiana della ragion pura, Weyinger si lagna del fatto che ricerche e studi su Kant siano portati avanti in una sorta di bellum omnium contra omnes, così come lo aveva definito Hobbes in altro contesto. Questa denuncia del 1881 continuò a valere per molto tempo. Le ultime due decadi del XIX secolo videro le principali scuole neocantiane in continua lotta tra loro. Erano d'accordo sul fatto che bisognasse tornare a Kant, ma si dividevano nell'interpretare il Kant a cui bisognava tornare. Ciascuna scuola portava avanti le proprie linee ermeneutiche a scapito delle altre scuole. E lo stesso Weyinger non fu risparmiato da critiche e polemiche di vario genere nell'ambito delle interpretazioni di Kant. Pare che tra il 1892 e il 1895 Weyinger abbia principiato a non tollerare più un approccio schierato alla ricerca kantiana. Proprio in quegli anni elaborò il progetto di istituire una rivista che aggirasse questo scoglio. Il primo numero della rivista Kant Studien uscì nel 1896. Weyinger, in qualità di editore, dichiarò subito la linea che intendeva seguire. Affermò che era giunto il momento di dare una rivista che avesse obiettivi ben chiari e il primo di questi obiettivi era indubbiamente il mettere a fuoco gli aspetti storici del pensiero di Kant. Weyinger rilevava come fossero molteplici le questioni che meritavano attenzione e analisi. E tra queste questioni vi erano ad esempio la differenza tra giudizi analitici e giudizi sintetici, la deduzione della tavola delle categorie e la genesi delle analogie dell'esperienza. Ciò non di meno le attenzioni della rivista non si limitarono unicamente ai problemi metafisici ed epistemologici dei testi di Kant. Anzi, era in programma dedicare grande spazio anche agli altri scritti del filosofo di Königsberg, quelli con argomento etico, estetico e religioso. E poi la rivista Kant Studien incoraggiava gli intellettuali e gli studiosi a dedicarsi con cura ai nessi tra Kant e i suoi antesignani, non soffermandosi soltanto su Leibniz e su Newton, ma prendendo in esame anche Malbranche e Swedenborg. Un secondo obiettivo di rilievo delle Kant Studien era quello di non trascurare le questioni sistematiche inerenti agli scritti di Kant. In primo luogo la questione dell'analisi del nodo problematico stante alla base della filosofia kantiana, che così può essere compendiato. Quella di Kant è una filosofia scettico-negativa o è invece una filosofia in cui sono dominanti gli elementi positivi e costruttivi? Weinger, per parte sua, insiste sul fatto che l'intero pensiero moderno ha avuto origine dalla filosofia di Kant. Per questa cagione vi è la necessità di rendere più chiaro l'insegnamento di Kant prima di poter capire pienamente la filosofia moderna. Weinger apre la sua rivista a una grande varietà di discipline e di contributi. Ad esempio sono ospitate discussioni teologiche, giuridiche, di scienze naturali. E poi Weinger tiene senza tregua informati i suoi lettori dei progressi dell'edizione generale degli scritti di Kant che Willendilte stava curando. Il primo volume di quest'opera degli scritti di Kant apparirà nel 1910. Con Weinger ebbero modo di collaborare i più importanti intellettuali dell'epoca, come Forlander e Simmel, per citarne due. La ricorrenza del centenario della morte di Kant indusse Weinger a fondare una società, una società il cui ufficio doveva essere quello di contribuire agli studi di Kant e di sostenere la rivista. Nacque così la Kant Gesellschaft, o società kantiana, istituita nel 1904. La società annoverava tra i suoi membri pensatori come Diltai, Liebman, Simmel e Alfred Weber, il fratello del più noto Max Weber. A partire dal 1900 la salute di Weinger ebbe però un ulteriore peggioramento. Weinger capì di aver bisogno di un aiuto nel dirigere la sua rivista Kant Studien e nel 1903 venne allora affiancato da Max Scheler, l'anno successivo da Bruno Bauk. Sempre per via delle sue condizioni cagionevoli di salute, segnatamente per via del calo costante delle sue facoltà visive, Weinger si vide costretto ad abbandonare l'insegnamento e fu spinto a rivedere con urgenza il manoscritto del suo testo più celebre, la filosofia del come se. Muovendo dall'affermazione kantiana secondo cui le idee della ragione, pur non creando conoscenze teoricamente valide, hanno in qualche modo una loro valenza regolativa, mai costitutiva, ebbene su questa base Weinger sostiene che tutti i concetti scientifici sono finzioni, finzioni che valgono als ob come se fossero legittime soltanto per la loro funzione pratica ed euristica. E' questo il contenuto nodale del testo La filosofia del come se di Weinger. Insomma una riabilitazione del concetto kantiano di als ob come se che svolge una parte fondamentale come è noto nella dialettica trascendentale in cui Kant studia le idee della ragione e delegittimando l'uso costitutivo ne valorizza l'uso regolativo. Nel 1926 Weinger abbandona la Kant Gesellschaft per via della totale cecità a cui l'età avanzata l'aveva condotto. Weinger era stato a capo della società Kant Gesellschaft, da lui fondata, per ben 21 anni. Il 10 giugno dell'anno seguente, 1927, viene conferito a Weinger il titolo di presidente onorario della Kant Gesellschaft e questa è espressione della grande stima che i membri della società nutrivano per il suo impegno di diffusore del pensiero di Kant ma poi anche di pensatore originale. In occasione dell'ottantesimo compleanno di Weinger, nel 1932, professori e studiosi di tutta Europa curarono una raccolta di scritti dedicata a Weinger e in tal guisa dimostrarono la grande stima internazionale di cui il filosofo ormai godeva. Dimostrarono altresì l'ampio raggio dei suoi interessi. La raccolta collettanea infatti racchiudeva saggi inerenti alla filosofia politica e all'economia, alla scienza e alla religione e naturalmente anche alla storia della filosofia. Weinger si spense il 18 dicembre del 1933. La sua formazione culturale e i suoi interessi furono decisamente assai ampi. Studiò il sanscrito e il greco, si occupò di archeologia, prese in esame le teorie di Darwin, di Newton, di Mill, di Schopenhauer, di Nietzsche e di molti altri filosofi e scienziati. Ma, come già ricordato, il suo principale interesse fu il pensiero di Kant, al quale dedicò l'intera sua vita. Nessuno che sia oggi realmente interessato a Kant può ignorare i contributi di Weinger agli studi kantiani. I suoi testi, i suoi articoli, la sua rivista, la stessa società kantiana da lui fondata, sono emblematici e assolutamente fondamentali ancora oggi per capire il pensiero di Kant. Peraltro ancora oggi la rivista Kant Studien, fondata da Weinger, seguita a rispettare le linee guida che Weinger aveva tracciato a suo tempo nel fondare la rivista.